Ciao cari ospiti e amici! Oggi vi saluto qua dalla Winelands del Valserhof. Intorno a noi sono conservate circa 8.000 bottiglie. Io vi voglio raccontare qualcosa riguardante la conservazione. Sono ad aspettare 3 punti. Punto numero 1, la temperatura. Idealmente la temperatura rimane sempre al suo costante, tra i 7 ai 14 gradi. Punto numero 2, la posizione. Idealmente la bottiglia viene conservata all'orizzontale in un posto scuro. E il punto numero 3, secondo me il punto più importante è l'umidità. L'umidità deve essere sopra il 70%. Sicuramente lì si rischia che sull'etichetta si forma una muffa, ma però il tappo rimane sempre bello bagnato e bello in forma. E così è l'ideale per la maturazione del vino. Speriamo di poter brindare presto con voi. Alla vostra salute! 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 Salute!